La ceramica è il primo manufatto dell'uomo, l'uomo ha cominciato a costruire i primi utensili usando argilla impastata con acqua e questo è l'elemento che avvicina all'infanzia, l'infanzia dell'umanità e l'infanzia continua e perenne di un bambino. E' un legame, un avvicinamento che sotto questo aspetto si porta alle origini della civiltà. Ma attualmente credo che la ceramica vuol dire tante cose, vuol dire colore, vuol dire igiene, vuol dire anche d'utilità, disegno. Questo appunto credo che avvicini molto il prodotto all'infanzia. Lo vediamo in questa mostra molto simpatica dove appunto i designer hanno lavorato utilizzando la piastrella in diverse forme, diversi formati, diverse soluzioni anche tattili e creando appunto degli oggetti che avvicinano il bambino al prodotto e lo fanno giocare.